Ciao Elena, raccontami della Milano S Week. Abbiamo fatto questo convegno per raccontare appunto la Milano Sostenibile, la Milano Smart, la Smart City appunto, tutto quello che è l'evoluzione della città e la mostra l'accompagna appunto mostrando il mio sguardo sull'evoluzione della città di Milano in questi anni. Queste foto le scattate più o meno in quale periodo? Dal 2015 ad oggi. La tua preferita? La mia preferita è questa, quella rossa e un'altra che c'è di là. Questa l'hai scattata da? Dalla Torre Velasca, perché poi c'era un temporale bellissimo in arrivo, era veramente magico e quindi mi è rimasto nel cuore. Vivere una situazione così è la magia, veramente, la tempesta perfetta come l'ho chiamata. Grazie.